Giocavamo a Chiodarolo, a Chiodarolo, sì, secondo me oggi ragazzi c'avamo un 0-0, la gente paga per vedere la partita e vuole vedere i gol, quindi 0-0, 6-6 hanno capito, sempre un 0-6. Siamo quasi arrivati, comunque ragazzi stiamo andando in un posto, c'è veramente tanto movimento, noi oggi rientriamo il paese, siamo in Wings. Attento all'amore, attento all'amore, attento all'amore, attento all'amore, attento all'amore. Siamo arrivati al centro sportivo di Rivanolo, questa ridente città piemontese dove... Chiederemo di starla a ridere un po'. Stavano davanti a gente, nel campo verde, c'è Giocavano che sanno che siamo arrivati. Ciao ragazzi! Ciao! Oh, là ci sono anche le donne alla Croce Rossa, non solo uomini! Grazie, grazie! Italia-Germania 3-1, campioni del mondo! Siamo noi, siamo noi, siamo noi! Grazie a tutti! Il pianista nell'oceano, il pianista nel campo Guarda, che classe Ci vede come professionista, non ti guarda mai in faccia Il pianista nell'oceano, il pianista nell'oceano, il pianista nel campo E non solo la bocca Sto firmando la moneta allo zio e non è che mi fido tanto Ho anche zoomato Sì, ma non ci chiedo che è dentro Spero che non scappi la lattina Spero che è in macchina Sì, ma io ti voglio solo la Sì, ma io ti voglio solo la Sì, ma io ti voglio solo la Spero che cosa che c'era dentro la moneta Me la gusto Cioè, è entrata ma non esce più Difficile? Però è lei Sì, sì, ce l'hai Bravo, vi è piaciuto il numero di magia? Cosa ti dà? Non esce neanche Non è fatto a imparare se non esce Non esce neanche Ok, ok Ho vinto Ciao amici Se il video vi è piaciuto mettete il pollice in su E soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale Cliccando sulla campanellina Ma volevo salutare Magico Andre e i suoi tre amici della terza D Come da gentile richiesta Ed in particolare uno Defu Ciao defu da Zio Potter